Ad un anno dalle elezioni regionali del 2024 i partiti politici cominciano a scaldare i motori, nel centro-sinistra ancora non circolano nomi, nel centro-destra sarà ricandidato con ogni probabilità l'attuale governatore di Fratelli d'Italia, Marco Marsilio. Nei giorni scorsi si era fatta strada con insistenza la voce della candidatura dell'attuale presidente della provincia e sindaco di Castellisangro, Angelo Caruso, che oggi però smentisce categoricamente, seppur la proposta gli sia stata fatta. Ma la smentiamo categoricamente, non ho mai ipotizzato questo tipo di disponibilità o di aspettativa, l'ho rappresentato al presidente Marsilio, l'ho rappresentato al sindaco Bionti, continuerò nel lavoro del mandato da sindaco e da presidente della provincia, fino a che questi non scadranno e poi si vedrà il futuro. Ci hanno provato però a convincerla. Ma la proposta è arrivata, ovviamente è stata anche sollecitata, che il presidente Marsilio l'avrebbe gradita, ovviamente ho rappresentato a lui stesso e che era una proposta irricevibile, non fosse altro perché starei comunque a metà mandato di entrambi i ruoli da sindaco e presidente della provincia, per cui io credo che ognuno debba portare a termine il proprio ruolo, che è il risultato di una fiducia che viene raccolta dagli elettori e anche dagli amministratori per quanto riguarda la provincia, fino a che ovviamente poi non si determinerà l'esito della riforma sulle province. Per quel che riguarda lo scenario, il presidente parla di un centrosinistra in grande difficoltà e di un Marsilio che invece merita la riconferma. Il centrosinistra credo che abbia una difficoltà insuperabile perché se non sono stato in grado di trovarlo nei quattro anni, un possibile candidato avversario di Marsilio, la vedo dura in questo scorcio di legislatura di individuare o di raccogliere proposte che sono arrivati in questi giorni, come dal collega del sindaco Menna su Paolucci. Marsilio è una candidatura assolutamente lineare, una candidatura scontata, una candidatura che è proponibile nella misura in cui un presidente della giunta regionale che infrange per la mia volta quell'alternanza che c'è sempre stata tra centrosista e centrodestra ha sicuramente meritato la ricandidatura ma soprattutto ha meritato quel consenso che oggi si va delineando anche intorno a quelli che sono stati i risultati su Fratelli d'Italia e sullo scenario nazionale.